Disney Pixar, Inside Out 2, è in arrivo al cinema. Qui è gioia, live dalla mente di Riley. Ciao. Io sono ansia. Una nuova emozione. Noi volevamo fare una buona impressione. Che vuol dire noi? Lei è Enoui. Io sono in idea. Lui è imbarazzo. Stiamo forse sognando? Qualcuno mi dia un pizzico. Acquista il biglietto per vincere la possibilità di creare ricordi che durano per sempre. Acquista il tuo biglietto da Ugi. Grazie.